Nel primo pomeriggio, in un sottano adibito ad abitazione, una esplosione ha fatto tremare gli stabili di strada in curia della città vecchia di Bari, nei pressi della scuola Filippo Corridori. Sembrerebbe che a causare l'evento sia stata una perdita proveniente da una bombola e che, dopo aver saturato la stanza di gas, all'accensione della luce sia esplosa. All'interno del sottano erano presenti due persone, entrambe trasportate in codice rosso, ai pronto soccorso degli ospedali cittadini, con notevoli bruciature sulla maggior parte del corpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, diverse squadre dei vigili del fuoco, polizia locale, polizia di stato e carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto.